Spenderò due secondi in più per presentare il prossimo atleta, Alango Verosso, dall'Accademia Arti Marziali dei Rimini, campione del mondo, Juniores! Accettate un incontro, signores, una categoria superiore alla sua, Angolo Rosso, Lunardui Marco! E dov'è? Vuoi combattere con me? Moriresti per me? Non c'hai la testa come la mia, eh? Non c'hai la testa come la sua, non c'hai la testa come la sua! Ragazzi vi ricordo che è che Lunardio ha 16 anni, ha cercato una categoria di peso superiore alla sua, è un signore con una persona più grande di lui! Un grandissimo applauso a questo grandissimo atleta che darà soddisfazione sicuramente a tutti i suoi team! Lunardi, Marco! Oh, scusa da Rini che c'è più caldo, è venuto qua a prendere il freddo e la pioggia, non lo so, forse è una mega stava qua! Morios Verona! Non ha bisogno di presentazioni! L'abbiamo già visto combattere in tantissimi Galacca Combat League! Antonio Leroge! e guardate! Sanika, vuoi fare una foto al cane? Facce bello! E l'abbiamo fatto la foto al cane! Eccoci, eccoci, eccoci! Advanced Feministro! Inoltre! Avere! Vio Mota! i due attrezzi si ispireranno sulle NMA pur russi alla categoria dei meno 65 kg c'è un progetto occhi contro diuti e vanicoso e' vantaggio libera 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 sciolto sciolto vai André tranquillo vai André fiam giù la testa schiacciati giù ok schiacciati giù la testa bravo vai giugno schiacciati giù la testa vai il sopra schiaccialo giù schiaccialo giù gogna testa tranquillo 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 lo giri così diserci dritto via 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 da lì sciolto sciolto tranquillo tranquillo non c'è cazzo si stanno a mezz'essuale dai 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 pop up pop up Hop up e schiacciolo giro. Hop up? Sì, comincia a girarlo. Sto sempre spinta e recupera la testa. Hop up! Ok, go, go, go. Sei uscito. Buono, schiacciolo lì, stabilita. Spento il triangolo. Ehi! 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 Ragazzi un applauso per questi atleti! Ehi! 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 E un minuto e mezzo vai tranquillo guarda qualche ginocchiato guarda qualche colpo basso tranquillo non farti proiettare sciolto, sciolto, non farti proiettare aiungalo, spingilo via e cominci a menare switch ok, switch guardalo alla gabbia tu tranquillo, sempre sprecare guarda i colpi, guarda colpi anche tu tranquillo, tre minuti passati manca un minuto vai tranquillo, sciolto vai, si, si, non fa un cazzo stop, ha detto stop sciolto, entra lì tranquillo, tranquillo entra lì sciolto, muoviti light, light sciolto 40 secondi sciolto, sciolto relax sulle mani, sulle mani change level 1, 2 vai, su un cazzo boah eccolo lì dove è eccolo lì eccolo lì dove è spingilo via e mena sulle mani 20 secondi vai, vai, vai colpiscilo colpiscilo stabilizza schiaccialo giù colpiscilo non farti passare nel triangolo né un cazzo ai basso colpiscilo no, non c'è un cazzo lì schiaccia giù schiaccia giù e colpisci si, si buono fine del primo round vai vai un applauso per tutti e due superfighter anche per le ringhezze buoni secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi rida al tavolo della regia grazie rida al tavolo della regia grazie scomlao un applauso ragazzi incoraggiamo i nostri fight ehi ehi sciolto sciolto io andalo via fuori dai coglioni ok così vedi che lo colpisce guarda ehi vai giocare in life vai sciolto 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 eccolo dai eccolo lì cazzo sciolto ehi chiudi le gambe non fanno passare chiudi le gambe chiudi le gambe non sprecare un capo e ti faccio in faccia liberti sai come si fa Marco forza riesci a fare la mia appena è possibile non sprecare ragazzi in faccia ha aperto il braccio alla perda ragazzi in faccia ragazzi in faccia ha battuto ehi un applauso ragazzi un applauso un applauso un applauso un applauso un applauso vince il Giampao il Stologno le rose dovesce l'applauso per i Lugardini vai